L'ipotesi targhe alterne a Palermo si fa sempre più concreta. Comune e Amat sono al lavoro per ripristinare la segnaletica e rimontare i cartelli che tornano al posto di quelli che indicavano la zona traffico limitato. Un passaggio fondamentale che nei giorni scorsi aveva causato un grande caos ma senza il quale la Polizia Municipale non potrebbe multare i trasgressori. Il ritorno alle targhe alterne è dovuto alla sospensiva che il Tar ha dato al provvedimento della ZTL in attesa del pronunciamento definitivo del 9 novembre. Il ripristino delle targhe alterne consente quindi di circolare a seconda che il giorno pari o dispari coincida con il pari o il dispari dell'ultimo numero della targa. L'obbligo finalizzato a contenere le emissioni inquinanti riguarda le vetture fino a Euro 3 ed è in vigore dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Per chi non rispetta l'obbligo c'è una multa di circa 165 euro, soldi che alle casse comunali in questo momento fanno comodo, non potendo più contare sugli incassi dei pass per la ZTL.